Frattese Barano, seconda giornata del campionato di eccellenza, Barano subito in avanti con Manieri, il colpo di testa di Conte, la parata e poi c'è Arcamone che mette dentro il Barano subito, passa in vantaggio con il suo numero 9. Adesso Fibiano, salta di Simone, calcia e Mazzella non perfetto qui, la Frattese trova il pari, 1 a 1, ancora angolo per il Barano, ancora un colpo di testa questa volta di Conte, palla che sfiora il palo, poi un cross, palla sulla destra, un altro cross e il colpo di testa di Esposito che batte Mazzella, 2 a 1. Ancora Frattese in avanti con Esposito che calcia Mazzella si fa trovare pronto in questa occasione, poi ancora Conte il più pericoloso dei suoi, palla a lato, calcio d'angolo, un colpo di testa, Mazzella a vuoto e Tommasini di testa mette dentro, errore qui di Mazzella, altro calcio d'angolo, altra uscita, non perfetta di Mazzella, un colpo di testa di Esposito, palla di poco a lato, poi Arcamone in aria, il tunnel, il tiro, palla di poco alto, un po' egoista, qui l'attaccante, poi un tiro di Celiento, palla a lato, sempre la Frattese in avanti con colpo di testa di Esposito, poi ancora Celiento, mette alto, sempre il numero 11 però, qui c'è un contatto, in area di rigore, probabilmente calcio di rigore netto, non dato alla Frattese, ma dal calcio d'angolo Mazzella fa un altro errore in uscita e Riccio mette dentro, 4 a 1, Barano in avanti, ancora con Conte, che sfiora ancora il palo, poi qui Conte sbaglia tutto, palla bruttissima per De Simone, Celiento, salta Mazzella e fa 5 a 1. Ecco il gol del numero 11 e finisce qui, la Frattese batte il Barano 5 a 1.